Gentili telespettatori, buona giornata. Il Governo ha dato il via libera a un nuovo decreto proprio nel giorno in cui l'Unione Europea ha versato all'Italia la prima rata da 21 miliardi di euro per il PNRR, che si sommano ai 24,9 di anticipo ricevuti ad agosto. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge per rafforzare l'attuazione dello stesso Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Della quarantina di articoli che compongono il nuovo testo fanno parte anche alcune misure fiscali, ma meno di quelle che erano state preparate dai tecnici e che avevano fatto salire la tensione nella maggioranza. Alla fine, con l'obiettivo di potenziare la lotta all'evasione fiscale, uno degli obiettivi poi che è racchiuso nel PNRR, è rimasto l'anticipo delle sanzioni per chi non usa il POS e un portale per il contrasto al lavoro sommerso. È stata invece depotenziata la norma che inizialmente prevedeva l'astensione della fattura elettronica tutte le partite IVA soggette alla flat tax, fino a 65.000 euro di ricavi. Secondo indiscrezioni raccolte al termine del CDM, acronimo di Consiglio dei Ministri, Giancarlo Giorgetti, ministro dello sviluppo economico della Lega, ha ottenuto che l'estensione riguardi solo i contribuenti con ricavi superiori a 25.000 euro. Anche l'obbligo delle comunicazioni preventive all'Enea del super bonus del 110%, più che una stretta, come annunciato all'inizio, nella bozza entrata in Consiglio dei Ministri, è niente di più che una misura per potenziare il sistema di monitoraggio dell'efficientamento energetico. Vediamo la parte che riguarda multe e POS. L'articolo 15 di questo decreto legge dispone che l'anticipo dal 1 gennaio del 2023 al 30 giugno di quest'anno, l'entrata in vigore della doppia sanzione, 30 euro più il 4% del valore della transazione a carico di chi non accetta i pagamenti con Bancomat e carta di credito. La Confcommercio ha provato a opporsi con un duro comunicato. La diffusione dei pagamenti elettronici va perseguita con l'abbattimento delle commissioni dei costi a carico dei consumatori e delle imprese, non con le sanzioni, ma alla fine l'anticipo di sei mesi è passato. Caro Confcommercio, se c'è una legge ci si adegua e se non ti adegui prendi la multa. Inutile raccontare, ma non si fa così e non si mettono le multe, invece si mettono e come. Lavoro Nero nasce il Portale Nazionale del Sommerso, che sostituisce e integra le banche dati esistenti attraverso le quali l'Ispettorato del Lavoro, IMSS e INAIL condividono le risultanze degli accertamenti ispettivi. Obiettivo ridurre l'area del lavoro nero e aumentare il recupero dei contributi evasi. E poi ci sono le misure nella pubblica amministrazione. Vediamo di che cosa si parla, perché una parte importante di questo decreto parla di pubblica amministrazione. Bisogna modernizzare, potenziare gli uffici pubblici inserendo e formando nuovo personale. Non a caso il ministro della pubblica amministrazione Renato Brunetta ha ribadito che l'obiettivo del governo è riportare il numero di dipendenti pubblici tra cinque anni a quota. 4 milioni di dipendenti pubblici. Alla faccia, 4 milioni. 4 milioni, siamo in 60 milioni, vuol dire che siamo tra il 7-8% degli italiani e un dipendente pubblico. Ogni 100 persone che vedete passare 6-7 sono dipendenti pubblici. Adesso sono 3,2 milioni e abbassare di 5-6 anni l'età media, ora sopra i 50. Un primo passo in questa direzione è l'articolo del decreto che a partire dal prossimo 1 luglio stabilisce l'accesso ai concorsi pubblici tramite il portale INPA. Tutte le amministrazioni centrali dovranno pubblicare sul portale una sorta di LinkedIn per l'accesso ai posti della pubblica amministrazione, i loro bandi di concorso. Il potenziamento di INPA prevede che la piattaforma assolva al ruolo di porta, di accesso alle procedure di mobilità dei dipendenti all'interno della pubblica amministrazione. Una norma stabilisce inoltre che le amministrazioni predispongano per i neoassunti un ciclo formativo con durata e intensità proporzionale al grado di responsabilità. Sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico, in materia poi di parità di genere, le amministrazioni pubbliche sono tenute a rafforzare l'impegno a favore dell'equilibrio di Genova, non di Genova ma di genere, adottando specifiche linee guida, un potenziamento sia in termini di personale sia in dotazione finanziaria e previsto per la scuola nazionale dell'amministrazione. Nel decreto trova spazio anche lo stanziamento di 60 milioni a favore di Formez, che avrà il compito di rendere più efficienti le procedure di assenzione di personale pubblico anche nell'ambito delle funzioni del PNRR. Un pacchetto poi complessivo che dovranno insomma coadiuvare e accelerare l'iter del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio come nel caso della Costituzione di 3ISPA, una nuova società per lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di soluzioni software e servizi informatici per pubbliche amministrazioni, enti previdenziali. A prevedere la Costituzione appunto il PNRR e azionisti della società saranno IMSS, INAIL e ISTAT. E poi un'ulteriore norma prevede il riordino dell'Agenzia Spaziale Italiana e il trasferimento dei poteri di indirizzo direttamente in capo a Palazzo Chigi. E poi ci sono le norme per il Sud, presentate dal Ministro Mara Garfagna, a cominciare dal rafforzamento del ZES, le zone economiche speciali e nuove risorse per i vincitori del bando per la valorizzazione dei beni confiscati alla mafia per far fronte alle spese di gestione. Ma quello che mi lascia più un po' così, con quella faccia un po' così, di quelli che hanno visto il decreto, sono le 800.000 assunzioni nella pubblica amministrazione, da 3,2 milioni a 4 milioni di impiegati pubblici. Probabilmente mancheranno, ma probabilmente siamo sicuri che realmente mancano 800.000 dipendenti pubblici. Ma un paese già messo in questa condizione può permettersi di pagare 800.000, 800.000 dipendenti pubblici in più? Beh, certo è una bella botta alla disoccupazione. Ecco, cominciate a prenderli tra quelli che hanno il reddito di cittadinanza, così 800.000 in meno del reddito di cittadinanza. Quasi quasi abbiamo cancellato, come direbbe Di Maio, la povertà. Vabbè, grazie a tutti e buona giornata.